Voglio cambiare la mia condizione fisica, non mi piace il mio corpo, ok allora vai in palestra, eh no la palestra costa troppo, ok allora allenati a casa, vai a correre, è gratis, eh non ho tanta voglia, preferisco stare a casa a guardare la tv, allora non rompere i coglioni, non rompere i coglioni, c'è gente che si allena ogni fottuto giorno che gli piaccia o meno per raggiungere un obiettivo, mentre tu stai su quel cazzo di divano dove non ti ci ho messo di certo io a lamentarti, non mi piace il mio fisico, voglio cambiare il mio corpo, no, non funziona così, devi essere disposto a dare prima di ricevere, non parlate di genetica, eh non posso dimagrire perché la mia genetica non me lo permette, ma non dire stronzate, se vuoi un fisico migliore devi essere disposto a lavorare sotto, zitto e lavora, qui nessuno ti regala un cazzo. All probably Tom Rosaya. All willingly video. exciting